Salve Maria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fratelli pellegrini con Maria nel cammino della fede e animati dalla sua stessa speranza, rivolciamo al Padre la nostra preghiera per ottenere il dono dell'amore e della pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Signore doni alla Chiesa un amore sempre più grande per la parola di Dio, così da custodirla con cura, incarnarla fedelmente e donarla con generosità. Grazie a tutti. Il Signore sostenga il Santo Padre nel suo servizio pastorale e disponga i cuori ad accogliere la sua parola, come i pastori accolsero il verbo di Dio fatto uomo dalle braccia di Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Signore raggiunga con la sua benedizione tutte le genti, faccia tacere le armi, doni consolazione a coloro che soffrono, porti speranza ai perseguitati a causa della fede e della giustizia. Il Signore infonde in tutti i cuori la pace. Il Signore illumini tutti gli uomini affinché si riconoscano fratelli, uguali nell'umanità, pari nella dignità, impegnati a costruire un mondo in cui l'odio e l'inimicizia lasciano il posto alla civiltà dell'amore. Il Signore ci doni il suo spirito per proclamare a tutte le genti che solo nel nome di Gesù c'è e per salvezza e per educare i giovani alla vita buona del Vangelo. Padre della vita, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato per le mani di Maria, madre del tuo figlio, e donaci l'abbondanza dello Spirito Santo, perché uniti nel tuo amore infinito portiamo la pace sulla terra per poter godere di te eternamente in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amén. 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 Amén.